Avremo due masterclass, una masterclass mercoledì pomeriggio presso lo spazio Oberdan dove facciamo un po' il punto della situazione riguardo ai giovani filmmaker, ai festival, al ruolo dei festival e invece poi dopo giovedì la mattina presso il centro sperimentale di cinematografia avremo questa masterclass con Rudger Auer dove si parlerà di Blade Runner ma anche dell'expo della città del futuro e di sperimentare come sperimentare la comunicazione all'interno di questo contesto. Quindi affrontiamo un po' tutti quelli che sono gli argomenti clou compreso Blade Runner che in questo momento è stato ritirato fortemente in ballo per queste voci di prequel e sequel da parte proprio di Ridley Scott. Eden, si chiamava Eden, il cinema, erava un spettacolo. Era sempre pieno zeppo quel cinema lì perché non solo non per le pellicole che davano, per i film che davano ma era per l'avanspettacolo che c'era. Grazie. ! E' Grazie. Grazie a tutti.